... le brotini, le brotini, le brotini, le brotini! Davide, Davide, eri solo da te? Davide, 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 Davide! Davide, Davide, Davide! Davide, Davide, Davide! Davide, 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 Dav Femmino! Guarda di marcarlo scopo fuori! Aspettiamo un'altra invece del 5 o 6 del campeggio, voglio vedere! Ehi! Ehi! Io ti aiutavo la torta gelata! Ehi! Dove sei? Qui su di arrivare tu e tu non ti eh! Esatto! Vai! Ok! Sì! Sì! E' un bello! 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 Sennò lui si dice... Au! Polizio! E' un bello! E' un bello! Ma mai avrò! C'è anche il fotografo! Ma va! Cosa! Vi andavi presa in diretta, registrata! E' un bello! E' un bello! E' un bello! Si puoi andare! Pagando! Pagando si può fare! Pagando! Pagando si può fare! Io stoppo! Il bianco non arrivo! Porta! Qui ora sono tutti fuori gara eh! i cinque minuti concessi dalla prefettura sono passati sono tutti fuori gara chi è il bianco laggiù? sì, oramai li abbiamo via